Come integrare la tua tv nell'Apple HomeKit Con l'applicazione Apple Home si possono controllare in modo semplice e sicuro gli accessori compatibili con HomeKit. Come illuminazione, termostati, serrature, telecamere di sicurezza e altro, inclusa la TV LG. Tutto dai dispositivi Apple iOS o con i comandi HomeKit di Siri. Con la TV LG e l'Apple HomeKit sarà possibile connettersi e controllare determinate funzioni attraverso l'ecosistema Apple. Iniziamo dalla Home Dashboard sulla TV LG. Prendere il telecomando e premere il pulsante Home. Selezionare nel menu un'icona Smart Home Dashboard. La Smart Home Dashboard della TV può mostrare tutti i dispositivi collegati. Cliccando sul dispositivo sarà possibile selezionare quello che si vuole utilizzare e modificare le impostazioni. Ora mostreremo come integrare la propria TV LG nell'Apple HomeKit. Dalla Home Dashboard, scegliere Impostazioni AirPlay e AirPlay e HomeKit. Poi scegliere Imposta HomeKit. Scegliere HomeKit. Sulla TV dovrebbe apparire un QR Code. Ora prendere l'iPhone, aprire l'applicazione Apple Home, selezionare Aggiungi dispositivo, quindi scansionare il QR Code visualizzato sulla TV. Una volta completati questi passaggi, la TV LG verrà visualizzata nell'applicazione Apple Home. Ciò ti consentirà di controllare la TV tramite Siri o tramite la creazione di raggruppamenti di dispositivi, chiamati scene. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.